C'è l'unice, mettiamolo qua in mezzo per farlo. Quattro partiti ufficiali, quattro vittorie, una partenza alla quale non credevano in molti. Perfetto, no? No, siamo partiti veramente bene. Come avete detto, quattro partite, quattro vittorie, adesso c'è quella piccola pausa e dopo cominciamo. Voi ci credevate anche quando c'erano le sconfitte inamichevoli e in molti non consideravano la Lazio ad alto livello in questo campionato? Ma va bene, amichevole, quando abbiamo quelle amichevole perso contro Torino, Siena, parlavano tutti, così così. Però quando si fa su serio siamo qua, abbiamo visto. Come avevamo detto, quattro partiti ufficiali e quattro vittorie. E niente, dobbiamo continuare così. Adesso abbiamo una piccola pausa, come ha detto, e dopo partiamo ancora. Da Terzino stai giocando molto bene. C'è chi dice che tu sia sacrificato. Tu ti senti sacrificato in quel ruolo? No, ho visto che Radu non sta bene. Niente, sto qua, come ha detto sempre, sto qua a posizione all'altore. Se mi mette a giocare Terzino, lo faccio. Non è che dico no, però niente, abbiamo giocato benissimo. Perfetto così. Come stai? Perché sono uscito zoppicato. No, sto bene, ho un po' caviglia, ho un po' gonfiata, però vediamo questi giorni che partono domani per nazionale, vediamo. Senti, partite come queste, risultati come queste partenze, come queste, vi danno la consapevolezza di essere assolutamente un gruppo forte? Noi siamo un gruppo forte, quello l'abbiamo sempre detto, però i risultati ti aiutano sicuramente. Noi sappiamo che siamo forti, che abbiamo grandi giocatori e dobbiamo continuare così.